Ok, adesso è il mio turno per presentarvi una ricerca che abbiamo svolto, il cui titolo è Digitale e tecnologia all'impatto nella gestione delle aziende del design. Parto da questa frase che credo che possa riassumere bene quello che è accaduto, sta accadendo e accadrà. Every company is a tech company, è una frase di un manager di una società di ricerca di mercato nell'ambito tecnologico del 2013. Cosa significa? Significa che a prescindere dall'area di business in cui un'azienda oggi opera, delle più disparate, questa azienda va in ogni caso considerata come un'azienda tecnologica per quanto oggi il digitale e la tecnologia pervadano qualsiasi business in cui si opera. Veniamo un po' nel dettaglio. La mia relazione si basa su una ricerca quali quantitativa che abbiamo svolto attraverso interviste a imprenditori e manager italiani di aziende del settore, l'analisi e la rielaborazione di questionari inviati ad un panel di 28 aziende e società di questo settore, abbiamo raccolto tutta una serie di dati di ricerche esistenti e poi tutto completato da nostre stime e valutazioni. Il panel delle aziende che hanno risposto al questionario sono 28 aziende, hanno un fatturato di quasi 3 miliardi di euro, un fatturato medio di 104 milioni, sono cresciute del 10% in tre anni e hanno avuto nel 2016 in media un EBITDA dell'11%. Quindi diciamo che sono aziende per il settore di dimensione medio grande e in salute. Adesso poi vedrete nello svolgimento del mio lavoro che cosa hanno risposto. Questa è la prima slide di questo questionario e già credo sia interessante. La ripartizione delle vendite di questo campione di 28 aziende per canale distributivo. Vedete che il 56% è attraverso rivenditori, quindi wholesale, un 30% di contract, 14% di negozi monomarca e solo lo 0,4% di e-commerce che in particolare in realtà è fatto da sole due aziende su 28 che hanno un sito di e-commerce. Vediamo adesso lo scenario in cui queste aziende e le aziende come la vostra vanno a confrontarsi oggi sul mercato. Parlo, come ho detto nel titolo, di rivoluzione tecnologica e digitale, ma in sintesi che cos'è che è accaduto? Questa rivoluzione digitale nella sua sintesi ha consentito un contatto diretto tra il brand e il consumatore finale, in qualsiasi settore. Tutto ciò togliendo peso a quelli che io ho chiamato intermediatori e che possono essere considerati i distributori, gli agenti, i rivenditori, e gli stessi media, quindi la tecnologia ha aperto un'autostrada tra il brand e il consumatore. Ovviamente l'autostrada va anche sfruttata. Parliamo sempre, vi porto qualche numero della rivoluzione digitale, magari molti di voi lo conoscono, ma visti insieme possono dare un'idea. Sono numeri enormi, quindi non parliamo di qualcosa di nicchia, parliamo di realtà come Amazon che ha un fatturato di 178 miliardi di dollari e ha 300 milioni di clienti nel mondo, Google che ha 110 miliardi di dollari di fatturato e 2 miliardi di utenti nel mondo, Facebook 37 miliardi di fatturato e 2 miliardi di utenti nel mondo, vedete poi Instagram e Twitter. Quindi non stiamo parlando, cioè parliamo dell'oggi e di qualcosa che tocca a tutti noi. Ho scritto tutto il mondo è online, vedete che l'utilizzo dei social network e degli smartphone è passato da 90 minuti a 135 minuti al giorno dal 2012 al 2017 e nel mondo ci sono 4,8 miliardi di smartphone connessi. Qui già è un dato che può interessarvi più da vicino, da una ricerca di Google su dati Forester, il 58% delle vendite del canale fisico è influenzato da un contatto online. Quindi in realtà voi potete vendere, voi non vi rendete conto ma quello che accade nei vostri negozi o dai vostri rivenditori è influenzato da qualcosa che accade online. Chi sono gli attori di questo cambiamento? Sono quelli, usando oramai, oramai non è una novità, i millennials o magari chiamiamoli giovani consumatori. I millennials non sono più tanto giovani perché oramai sono quelli che hanno dai 22 ai 38 anni di età, quindi hanno un potere di acquisto da persone adulte e che quindi possono avere un impatto sui volumi di mercato. Questa è una curva gaussiana che vi dà l'idea graficamente del fatto che più questa retta si sposta a destra e più la quota di mercato che è appannaggio delle giovani generazioni è grande. Dietro i millennials c'è la Z generation che sono le persone dai 13 ai 22 anni oggi. Quindi non è più una nicchia questo, il concetto è che i famosi millennials non sono una nicchia, sono già una parte rilevante del mercato. E sono coloro che si comportano in maniera, tra virgolette, digitale. Vediamo l'impatto sulle aziende di tutto questo fenomeno e questi fenomeni che abbiamo descritto. Che impatto ha? Qui già parliamo di qualcosa che è venuto fuori anche dall'intervista. L'impatto è su praticamente tutte le aree aziendali, dalla prototipia, la produzione, supply chain, comunicazione, CRM. Quindi non c'è area aziendale che non sia stata toccata dall'impatto tecnologico e digitale. Riassumendo in tre macro categorie abbiamo individuato la produzione, la comunicazione e, chiamiamoli, e-commerce e la vendite. Abbiamo nello specifico la produzione. Il 78% delle aziende ha risposto che ha adottato tecniche di automazione industriale per migliorare la produttività e la qualità della produzione. Quindi una quota molto elevata ha lavorato sull'automazione. Nel dettaglio si è parlato di smart manufacturing, quindi macchinari connessi, magazzini automatizzati, prototipia robotizzata e stampanti 3D. Il 95%, quindi quasi tutti. Smart services, il 62%, connessione con i fornitori e tra fornitori e clienti per l'avanzamento della produzione. Gestione e condivisione di dati e informazioni tra filiali, stabilimenti e architetti. E il 33% ha parlato di smart energy, quindi impianti di riciclo e riutilizzo dell'energia e dell'acqua. Quindi comunque è un settore che su questo, usando un termine inglese, è confident. I vantaggi riscontrati dalle aziende sono stati la personalizzazione, il livello di qualità dei prodotti, il risparmio economico, di energia, la sostenibilità e la velocità di esecuzione. Su questa domanda invece c'è stata una risposta a metà e metà. Il processo produttivo è collegato al CRM, quindi c'è una qualche forma di collegamento tra produzione e quello che sono i clienti. Solo la metà ha detto di sì. L'altra metà ancora non ha nessun collegamento tra queste due aree. Chi ha detto di sì, il vantaggio riscontrato, proprio la sintesi, è quello di poter arrivare a una, noi abbiamo chiamata personalizzazione di massa, quindi riuscire a lavorare gradualmente ad un prodotto che è da un lato industrializzato e dall'altro è personalizzato secondo le esigenze dei clienti. Tra l'altro questo è uno, torno un attimo indietro, quello della personalizzazione di massa è uno dei macro trend assoluti del mercato di consumo per i prossimi 10-20 anni. Seconda area in cui ha avuto l'impatto la rivoluzione tecnologica digitale, la comunicazione. Abbiamo chiesto alle aziende come è cambiato la loro ripartizione degli investimenti in comunicazione negli ultimi 5 anni. Come vedete la carta stampata è scesa dal 37 al 26%, quindi ha perso 9 punti. Il digitale, che qui possiamo considerare tra campagne SEO, ADV online e campagne social, era quasi inesistente perché il 3% è salito al 22%, quindi quasi un quarto dell'investimento in comunicazione è online oggi da quelle aziende. Le fiere sono scese dal 42 al 33%, credo sia comprensibile perché prima la fiera era l'unico mezzo di vendita, oggi è uno degli eventi, uno dei momenti sicuramente il più importante ancora, ma non l'unico di vendita. Quindi il valore degli investimenti in fiera è sceso dal 42 al 33%, dall'altro lato gli eventi sono saliti dal 12 al 15% e poi c'è una voce residuale. Quindi vedete che c'è stato un cambio abbastanza importante di mix negli investimenti. A completamento, vi do questa informazione, il campione per il mediamente investe in queste iniziative di comunicazione il 3% del fatturato, che non è una cifra elevatissima. Guardavo ieri il bilancio di Chanel, è un altro settore, ma Chanel investe il 15% del fatturato ogni anno in comunicazione. Tutto questo ha portato anche ai cambiamenti delle figure interne, sì, l'85% delle aziende ha inserito una qualche figura specializzata nella gestione dell'area digitale. In particolare le figure più inserite sono state i digital specialist, digital marketing manager, content manager e anche qualcuno già i data scientist, che analizzano i dati. Quali strumenti social e online vengono utilizzati? Oramai il digital è di uso comune. Facebook e Instagram è il 100%, quindi tutte le aziende hanno un account. Siti web e cataloghi online idem. Il 74% utilizza campagne online, 37% lavora con gli influencer e un 26% ha in atto altre iniziative. I vantaggi che hanno riscontrato le aziende sono stati legati al raggiungimento diretto dei propri consumatori eliminando gli intermediari, quello che dicevo prima, il poter lavorare su scala globale, il poter avere azioni di marketing misurabili e il poter gradualmente conoscere i profili e gusti dei consumatori. Qui un escursus, abbiamo fatto una classifica dei brand più seguiti sui social e abbiamo sommato Facebook e Instagram, vedete che voi potete scorrere, il più seguito tra virgolette è Lago, seguito da Cartel, Natuzzi, Magis, Scavolini, Turri, B&B, Moroso e via discorrendo. Il numero dei follower non è un parametro che misura la proattività delle aziende online, ci sono dei parametri un po' più sofisticati che misurano quello che si chiama engagement, quindi l'interattività tra i marchi e le aziende, quindi questo è un primo step ma sicuramente c'è tutto un ambito da approfondire. Interessante, Matt, vi ho messo a fianco quante aziende di queste 15 hanno un sito di commerce. Come vedete ce n'è una sola che è Cartel. E-commerce, parliamo di commerce. Come ho detto, solo il 7% delle aziende considerate ha un sito di commerce. Abbiamo provato ad analizzare un campione più ampio delle 28 che hanno risposto ai questionari e abbiamo preso in considerazione 70 aziende e anche in questo caso di 70 aziende solo 7% ha un sito di commerce, quindi 5 su 70. Quindi l'e-commerce è un qualcosa che ancora oggi non viene assolutamente preso in considerazione da queste aziende, dalle aziende del settore anzi direi. Qualcuno ha iniziato comunque a collegare i negozi diretti o i negozi di partner con la propria piattaforma online, quindi la possibilità di avere una sorta di omni-channel, quindi qualcosa che possa legare l'interazione tra l'online e il negozio fisico, anche se parliamo di una minoranza perché è il 18%. Dall'altro lato, ed è interessante, il 95% delle aziende ha una sorta di CRM, quindi in realtà tutte le aziende raccolgono i dati dei propri clienti, anche se poi anche qui mi viene la domanda per capire che uso fanno di questi dati. Vantaggi e svantaggi dell'e-commerce, sempre dalle interviste e dai questionari a queste aziende. Il vantaggio sono il contatto diretto col mercato, l'ampio bacino potenziale e qualcuno ha parlato di maggiore marginalità. Il limite, che poi potrei considerare lo spauracchio del settore, è la concorrenza ai dealers, quindi la grande paura di entrare in concorrenza con i propri rivenditori, il 54% ritiene che ci sia una limitata abitudine all'acquisto da parte dei consumatori, il 46% vede come limite la complessità della gestione e della progettazione dell'e-commerce e un 23% parla di problematiche logistiche allo sviluppo dell'e-commerce. Rimaniamo sull'e-commerce, perché adesso vorrei farvi vedere qualche numero di quello che accade nel mondo a livello dell'e-commerce. Abbiamo preso i dati di mercato, parliamo di arredo, in America il 33 miliardi di dollari di fatturato passa tramite e-commerce, pari al 12% del consumo americano di design, mobile oggettistica. In Cina, dove le generazioni sono mediamente più giovani, parliamo già di un 20% di acquisti di mobili tramite e-commerce. In Europa abbiamo una quota più bassa, 6-7%, comunque si parla di 26 miliardi di dollari di fatturato, e vedete che quello con la penetrazione maggiore è UK, Germania, Francia, Spagna, e l'Italia è il fanalino di coda con 1-2% di quota di consumo design tramite e-commerce, parliamo di 300 milioni di euro di fatturato. Un altro dato preso da un'altra angolazione, queste sono le ripartizioni delle vendite, questi sono dati ICE, quanto di quello che va all'estero dall'Italia va tramite e-commerce. Il 2% del 100% che va all'estero tramite e-commerce è arredamento, quindi vuol dire che abbiamo un e-commerce di prodotti home, living e arredamento di 70 milioni che vanno fuori dall'Italia. Credo che una quota grossa sia Amazon. Ecco, questo credo sia una delle slide più interessanti. In realtà l'e-commerce, per quanto le aziende italiane lo trascurino ampiamente, ha dei player, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo, che hanno una rilevanza importante. Vi cito Yfair, che è un sito americano, che vende mobili, quindi non oggettistica, lenzuola o quant'altro, vende mobili, case intere, fa 4,7 miliardi di dollari e vende 100% online. Tra l'altro di questi 4,7 miliardi, non mi ricordo se il 15-20% è già all'estero e in Europa in particolar modo, quindi realizzano 600-700 milioni di dollari tra Germania e UK. Vi consiglio di vedere il sito perché vi rendete conto che stiamo parlando di prodotti assimilabili ai vostri. William Sonoma, altra realtà importante in America, più di 5 miliardi di dollari fatturato, 53% online. Restoration Hardware, 2,4 miliardi di dollari, 44% online. Maison du Monde, è un nome sicuramente più noto in Europa, fa 210 milioni di dollari online, e-commerce, quindi acquisto online. Laura Ashley, 21%, l'ultimo, che come vedete è un colosso sul retail, ma è piccolo, tra virgolette, sull'online è Ikea, che fa circa 40 miliardi di dollari in questo caso. Come vendite complessive, e il 4% online, che comunque è un miliardo e mezzo circa di vendite. Vedete che, per quanto le aziende possano dire di aver paura dei dealer e di non fare l'e-commerce, poi in realtà il mondo va avanti senza di loro, perché se ci sono aziende che fanno questi numeri, che significa che poi il consumatore, in realtà non parliamo dell'Italia, ma globalmente è pronto per acquistare anche prodotti, chiamiamoli semi-durevoli, come il mobile, online. O perlomeno avere un contatto, un approccio online, e poi ci può essere un passaggio anche dal punto di vista fisico per poter vedere i prodotti, ma in realtà il grosso del gioco avviene online. L'online ha portato anche alla nascita di nuovi modelli di business. Noi abbiamo individuato tre tipologie, i multi-brand che diventano i tailor, Mod, forse quello più noto in Italia, tra l'altro parlerà dopo, e vi do qualche dato, considerate che Mod fa di e-commerce 10 milioni di euro, quindi in realtà forse fa più Mod che la maggior parte delle aziende del settore online. Quindi in realtà c'è un mercato maturo, concreto, che si può cogliere. Mod fa il 50% del fatturato online, ed è un negozio, credo tutti di voi lo conoscono, di Messina, che è nato come un negozio tradizionale e ha sviluppato una parte online che oggi pesa la metà del loro fatturato. Poi ci sono realtà che chiamiamo native digitali, quindi nascono online come Artemis, che sta crescendo, Made, Love Design, quindi varie tipologie, o anche New Business Model come House, che conoscete tutti, che si sta avvicinando anche lui all'e-commerce. Quindi parliamo di numeri che incominciano a diventare importanti. Conclusioni. Dall'analisi della ricerca, dei dati che abbiamo raccolto, quello che si può dire è che sicuramente le aziende italiane sono all'avanguardia nell'innovazione legata al prodotto, l'abbiamo visto. Secondo me è un po' indietro nella digitalizzazione, perché sono sì sui social, ma ancora non hanno dato una concretezza a questa presenza online e sono assenti nell'e-commerce. In sintesi mi viene da dire che manca un po' la chiusura del cerchio, perché investono in tecnologia e automazione per poter avere anche i prodotti personalizzati, hanno CRM e la gestione dei dati, hanno una comunicazione digitale e social, ma al momento clou, quindi quello della vendita, tutto viene delegato a terzi. Quindi io l'ho chiamato come manca la chiusura del cerchio, quindi l'azienda deve, dopo aver fatto tutti questi investimenti, deve poi arrivare, secondo me, al consumatore finale. Perché, secondo noi, con il crescere della capacità di spesa delle nuove generazioni non si potrà fare a meno dell'e-commerce. Credo che una cosa sia importante per concludere, un consumatore che è oggi abituato ad informarsi e ad acquistare online lo fa per tutti i prodotti di cui ha bisogno, quindi sempre di meno vale la segmentazione di qualcosa va online e qualcosa no. Ora, quello che conta è la mente del consumatore e di come lui si comporta. Più crescono, più avanzano le nuove generazioni, più questo sarà uno standard da cui le aziende non potranno prescindere. Grazie.